Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è sabato 18 giugno e mi piace tantissimo Allora, indosso questi rucchini pendenti, ho fatto la coda perché devo andare dalla parrucchiera a fare qualche taglio particolare, non lo so cosa Cioè, qualche taglio, qualche taglio, forse le spunto solo, niente di particolare Questi rucchini sono dei pendenti bellissimi e arrivano dalla Sicilia, me ne aveva portati mia mamma una delle ultime volte che è stata Poi indosso questa occhiola di pelle di Tacco Fashion che conoscete benissimo In questa minita, quella nona lunghissima, che non mi ricordo dove ho acquistato Non mi ricordo proprio ragazze, probabilmente forse può essere in qualche banchetto Che adesso mi accorgo che è tutta storta, aspettate, no? È giusta, boh, un po' strana Comunque mi piace tantissimo, abbinata a questo abito lungo L'abito lungo è fatto a carnotchiera ed è proprio preso da calipo, guardate com'è carino indossato, lo volevo appunto farvelo vedere È fatto a carnotchiera verde militare con colore che mi piace un sacco E poi avrò il lungo 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 fino ai piedi Vedete? Poi è un outfit apparentemente molto semplice questo, quindi niente di esagerato, però fa al suo perché Ai piedi indosso il regalo che mi ha preso Mary, con il buono di prima donna Sono questi bellissimi zuccoletti neri, ve li faccio appunto vedere indossati Con le borchiette e il tacco marrone, sono troppo carini e adoro l'abbinamento con questo abito lungo Un pochino rock, diciamo È un contesto che mi piace tantissimo Vi faccio vedere comunque se riesco l'outfit completo Con giubbino perché anche se stiamo a metà giugno passato fa freddo Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo nel prossimo Aspetto di leggere i vostri commenti Ciao! Ciao!